Mentre le borse americane e quella tedesca volano verso vette siderali mai viste in precedenza, come se stessimo vivendo in un mondo paradisiaco, come se l'attuale situazione economica non fosse mai stata così florida, ebbene oggi io però vorrei ancora parlarvi del nostro paese, dei nostri conti pubblici, ma non del debito pubblico. Certo, anche quello sta volando verso vette siderali e abbiamo superato i 2.900 miliardi di euro, quindi insomma ci apprestiamo a festeggiare i 3.000 miliardi di euro di debito pubblico, insomma quasi 6 milioni di miliardi di lire. Non so se vi ricordate quando ci raccontavano che era bene entrare nell'euro perché questo ci avrebbe permesso di ridurre il nostro debito pubblico, che allora era all'incirca di un milione di miliardi di lire. Ecco come lo abbiamo ridotto con l'euro, siamo arrivati a quasi 6 milioni di miliardi di lire di debito pubblico. Ma ripeto, oggi non vorrei parlarvi del debito pubblico, ma di un altro problema che nei prossimi anni potrebbe dare quella che potremmo definire l'ammazzata finale ai nostri conti pubblici. Il problema pensionistico. Sì, lo so che voi magari non sarete molto d'accordo, ma i numeri sono numeri, guardate, non si discutono. Ed i numeri ci dicono che noi, in Italia, spendiamo tanto, tantissimo per le pensioni. Pensate che quest'anno, con ogni probabilità, spenderemo in pensioni una cifra pari al 16,2% del nostro prodotto interno lordo. È tanto, è tantissimo, perché la spesa media dei 27 paesi dell'Unione Europea è pari all'8,5% del PIL. Quindi noi spendiamo praticamente il doppio della media europea. E perché accade questo? Per le pensioni d'oro? Certo, allora esistono le cosiddette pensioni d'oro. Così come ancora esistono i baby pensionati e le baby pensionate, non so che, quelle insomma che anni fa sono andate in pensione a 36, 37 anni, cose del genere insomma. Ma il motivo principale per cui noi spendiamo molto è che tutti, tutti i pensionati italiani percepiscono un assegno pensionistico che, per lo meno per un certo numero di anni, viene ancora calcolato col metodo retributivo. Insomma, tutti i pensionati italiani stanno percependo una pensione superiore a quella, diciamo, che avrebbero avuto conteggiando i contributi versati. Questa è la verità dei fatti, non ci sono storie. Per decenni in Italia siamo andati avanti a calcolare le pensioni col metodo retributivo. Oltretutto, aggravato anche dal fatto che, soprattutto nel pubblico impiego, negli ultimi anni dell'attività lavorativa, venivano concesse delle promozioni che facevano aumentare le retribuzioni e di conseguenza anche l'assegno pensionistico, proprio perché veniva calcolato in base all'ammontare delle ultime retribuzioni. Il fatto che anni fa il numero dei lavoratori superava largamente, insomma, quello dei pensionati, questo ha permesso che il gap pensionistico, cioè la differenza fra l'assegno pensionistico calcolato col metodo retributivo e quello col metodo contributivo, questo gap, appunto, questa differenza fosse saldata con i contributi versati dalle persone che stavano ancora lavorando. gli occupati. Era chiaro però che così non si può andare avanti. È ovvio, insomma, in questo modo non si rende mai sostenibile il sistema previdenziale. Per renderlo sostenibile ognuno deve percepire un importo, direi, parametrato ai versamenti effettuati durante la sua vita lavorativa. In questo modo, infatti, si calcola anche la sostenibilità del sistema pensionistico nei diversi paesi. E l'indice, insomma, considerato più attendibile in questo settore è il Mercer Institute Global Pension Index, appunto, un indice che analizza i modelli pensionistici di 47 paesi al mondo. Ebbene, nelle prime tre posizioni di questa classifica troviamo prima i Paesi Bassi, poi Islanda e terza la Danimarca. In fondo alla classifica, India, Filippine e ultima Argentina. Ebbene, come si piazza l'Italia? Male, male che volete che vi dica. trentunesima su 47. Insomma, dietro di noi, direi, solo paesi del terzo e del quarto mondo. Io, certo, sono sicuro che molti di voi a questo punto vorreste evidenziare che la voragine dell'Inps non derivi dalla previdenza, bensì dall'esorbitante numero di pensioni assistenziali che vengono erogate. Allora, anche qua bisogna essere chiari. Sappiamo tutti che Inps vuol dire Istituto Nazionale Previdenza e quindi dovrebbe occuparsi solo della previdenza. Certo, ma comunque le pensioni assistenziali, scusate, devono essere erogate. Che le eroghi l'Inps o un altro istituto nazionale, ma insomma, non cambia nulla per le casse dello Stato. È chiaro che, certo, si dovrebbe fare una lotta serrata contro le false pensioni di invalidità. Questo è fuori discussione. Tuttavia, il problema pensioni in Italia rimane un problema serio, soprattutto perché è destinato ad aggravarsi. e questo è chiaramente l'aspetto più preoccupante. In molti sostengono che la denatalità sia un fattore preoccupante in quanto contribuirà in maniera, potremmo anche dire, determinante ad aggravare il problema. Io però non sono dell'avviso. Io sostengo che l'obiettivo non è tornare a pagare le pensioni utilizzando i contributi versati da chi sta ancora svolgendo la propria attività lavorativa. Lo ripeto, ognuno deve costruirsi, con gli anni naturalmente, nel tempo, la propria pensione. Chi vuole costruirsi una rendita pensionistica superiore a quella che deriva dalla contribuzione obbligatoria, ossia quella dell'Inps, non ha altra scelta che affidarsi anche alla previdenza integrativa o complementare. Lo so che gli stipendi in Italia sono bassi e quindi risparmiare per farsi una pensione integrativa non è facile. Tuttavia non c'è altra scelta. Per anni, anzi per decenni, in tema di pensioni è lo Stato ascialacquato. Questa è la verità. E ora non si può più. I giovani di oggi questo lo devono comprendere assolutamente, altrimenti arriverà il momento nel quale si scontreranno con la dura e cruda realtà.